Un programma di acquaticità attraverso l'idroterapia per bambini disabili o affetti da patologie fisico-cognitive e neurologiche è solo una delle possibilità offerte dal centro riabilitativo Bilello di Sciacca che si trova in Via Lioni. All'interno della piscina opera come esperto il dottor Boris Ginzburg. Lo abbiamo intervistato. Qual è l'importanza di questi esercizi in acqua per i bambini? Molto importante per i bambini soprattutto per i bambini che hanno questi problemi di sviluppo tipo danni cerebrali che vengono dopo il parto bimbi con paralisi cerebrale, con problemi genetici, con problemi, io ho lavorato con bambini cardiopatici L'acqua permette di fare tutte queste attività in spazio dove richiede al bambino meno energia, meno forza così loro possono muoversi, creare schemi motori molto più semplici così dall'acqua possono iniziare il suo percorso evolutivo. Problema che queste bambini sviluppano tramite percorso evolutivo, iniziano stricare, poi gattonare, poi camminare. Invece se hanno queste problemi gravi, a terra, possiamo dire, non hanno percorso, non possono contrastare con sua, diciamo, spasticità, ipotonia, contro forza di gravità. Invece in acqua possono creare percorsi molto più semplici e tramite questa sviluppare sulle muscolature e tutto il sistema neuromotorico e poi dopo loro sono pronti a portare questa esperienza a terra e c'è questa apertura, fare un sviluppo anche a terra e recuperare sull'handicap. Direttore sanitario della struttura il dottor Domenico De Cicco, noto alla collettività per la sua attività di primario nel centro di riabilitazione Fondazione Maugeri. A partire dal discorso dell'idroterapia che ha questa meravigliosa piscina resa disponibile al territorio perché è l'unica nel territorio, la capacità di questa struttura è quella di offrire dei servizi in riabilitazione e in fisioterapia di altissimo livello. Ci sono cinque terapisti che hanno conoscenze di tecniche e di metodiche, in più la struttura offre la possibilità di fare della fisioterapia con delle attrezzature non solo di nuovissima generazione ma anche con delle possibilità di poterle applicare a qualsiasi età, in qualsiasi modo. A questo si aggiunge la possibilità di poter iniziare dei percorsi di medical fitness che sono dei percorsi molto importanti oggi come oggi. Se io volesse essere più bello sicuramente mi dedicherei a fare di me qualcosa che mi trasformasse nel mio essere, nella mia persona. Questo è il medical fitness fatto con delle esperienze, con delle professionalità che ti seguono in un percorso che non è solo quello di fare muscolo. Ecco dottore, lei dopo tanti anni di esperienza alla Maugeri adesso si trova qui e voglio chiederle una sua considerazione anche umana oltre che professionale. Sono due cose simili, io spero che questa struttura possa raggiungere dei livelli di eccellenza perché l'unica, probabilmente in questo momento non voglio togliere niente da nessuno, che può offrire un certo tipo di attività. La presenza della piscina per l'idroterapia, la presenza di due terapistiche in acqua fanno riabilitazione in acqua. La possibilità di poter fare riabilitazione in allevio di carico totale, senza gravità e utilizzare la piscina per la riabilitazione dei bambini con disabilità sia dal punto di vista motorico che dal punto di vista cognitivo utilizzando delle tecniche molto particolari come quelle di Boris Ginzburg ci può permettere di avere un certo livello ed è quello che si spera.